ciao a tutti ci sono video molto più complicati da fare di altri questo è uno di quelli perché perché come dico spesso contraddicendo un po poi quello che facciano mettendo online i video è molto complicato spiegare alcune cose soprattutto così parlando senza nessuno davanti cercando di far capire cose che succedono a anni luce di distanza perché poi quando si parla di come suonare come studiare come relazionarsi al palco tante cose sono cose molto difficili da spiegare alcune soprattutto quello che non sapete probabilmente è che prendo moltissimo spunto dalle lezioni che faccio con i miei studenti perché quando mi capita di affrontare un argomento molto nello specifico molto nel dettaglio si arriva a parlare di cose di cui difficilmente si può arrivare a discutere o a cercare di spiegare quindi in quel preciso momento quando suoni quella cosa in quel contesto riesco a darti un'informazione che per me sarebbe praticamente impossibile dare in altro modo in altro momento è per questo che poi si impara solo con l'esperienza propria non degli altri ma comunque i consigli possono sempre essere utili e si può cercare di andare in una certa direzione vorrei provare a parlare di quella che è una delle cose più difficili e che quasi vorrei dire quasi poi nessuno raggiunge veramente che è l'interpretazione quando si suona adesso io in particolare come al solito forse un piccolo vantaggio perché parlando del fingerstyle quando suoniamo da soli possiamo gestire l'interpretazione da soli nel nostro piccolo no perché qualunque cosa stiamo suonando siamo comunque soltanto noi se devi suonare in un contesto in cui ci sono anche altri musicisti entrano in gioco tutta una serie di altri fattori che è molto complicato mettere mettere insieme no quando quando si suona comunque è difficilissimo parlarne quindi cercate un po di seguirmi anche se sembra che vada un po di palo in frasca insomma se faccio il dottor di vago come sempre uno dei grandi problemi è che ci sono due strade che devono andare avanti contemporaneamente quando vedete un musicista bravo che suona magari sul palco ascoltate un video ascoltate un disco ho detto ascoltate un video e non guardate un video questo ha un significato per me queste due strade parallele sono la tecnica che il musicista deve applicare e l'interpretazione che il musicista deve dare della cosa che sta suonando adesso sono due cose completamente inscindibili ovviamente no perché se ti viene a mancare la tecnica che cosa vuoi interpretare se ti viene a mancare l'interpretazione la tecnica non ha nessun senso allora bisogna mettere insieme tutta una serie di elementi che cosa è l'interpretazione l'interpretazione è il modo in cui suoniamo un po più forte un po più piano perché poi il volume non ha la dinamica la dinamica non è altro che il volume un po più forte un po più piano a seconda del momento in cui siamo il timbro che diamo allo strumento perché si può suonare il più aspro vicino al ponte più dolce vicino alla buca e trovando tutta una serie di timbri intermedi il il rallentare accelerare ok il sugli spartiti molto spesso si trova l'indicazione rallentando per esempio nel finale del brano o magari in un punto particolare in cui l'autore vuole specificare che in quel punto è bene dare no una sensazione di qualche cosa che si rilassa per poi magari riprendere il tempo a volte ci sono indicazioni di tempo libero quello che sia insomma le indicazioni sugli spartiti possono essere di molti tipi ricordiamoci sempre che la musica veniva scritta quando non c'erano i supporti di registrazione quindi lo spartito dove essere molto dettagliato adesso che cosa succede che all'interno di un brano un brano può durare due tre quattro minuti può durare di più può durare di meno ma insomma diciamo tre minuti no per dire all'interno di quel brano soprattutto se è un brano lento medio lento perché un brano molto veloce può avere interpretazione ma se io parlo così molto veloce sarà difficile dare un'interpretazione a quello dico se parlo invece in maniera più lenta potrò dare tante inflessioni sembra un esempio stupido ma in realtà va abbastanza nella direzione mia che sono abbastanza stupido che cosa succede all'interno del brano tecnicamente dobbiamo essere completamente padroni di quello che facciamo completamente la tecnica deve scomparire dagli occhi di chi ci guarda e chi ci ascolta completamente scomparire non importa quanto sia difficile quello che facciamo interessa solo a noi chi sta davanti a noi non è lì a vedere il circo con leone che salta nel cerchio di fuoco sta lì per sentire un musicista quindi si suppone che faccia altro ci si vorrebbe emozionare di fronte a un musicista il inter l'interpretare dei momenti comincio ad avere difficoltà perché perché mentre se ho uno studente davanti e sta suonando un passaggio di una battuta gli posso dire vedi arrivavi da quelle due battute precedenti e sei arrivato in questo modo un po troppo veloce un po troppo lento un po troppo facendo questo quest'altro con un suono così troppo forte o troppo piano in questo momento tutto questo non lo posso fare quindi si capisce il limite in cui mi devo muovere per spiegare delle cose ma vorrei provarci comunque perché la cosa è molto interessante può dare degli spunti più avanti no quando si studia quando ci si trova nella condizione ci si rende conto di che cosa succede allora quando arriviamo a un certo passaggio suonato in un determinato modo non sarà soltanto quel passaggio essere suonato così sarà tutto quello che viene dopo e abbiamo in un certo modo condizionato e siamo stati condizionati da quello che c'era prima perché se suono la preparazione di un determinato passaggio in un certo modo è un po come far la curva della macchina io posso essere bravo quanto mi pare a far la curva ma se ci arrivo a 180 vado fuori strada se ci arrivo rallentando prima è probabile che addirittura riesca ad accelerare uscendo dalla curva questo che cosa significa un po che anche chi guida ha una sorta di interpretazione di quello che fa non l'interpretazione della curva o dell'accelerazione o del rallentamento ma interpretazione in sé di un passaggio ha poco senso perché è il brano complessivo che che conta conta come abbiamo cominciato come abbiamo suonato la prima nota come abbiamo suonato il primo passaggio se quel passaggio si ripete perché a volte ci sono dei passaggi che si ripetono in un brano per poi magari ad arrivare arrivare ad una variazione se quei passaggi si ripetono come li abbiamo suonati quando li abbiamo ripetuti che velocità abbiamo dato che volume che suono perché chi ci sta davanti non ascolta nient'altro che noi stia che stiamo suonando dalla prima nota andiamo avanti all'ultima in mezzo succede qualunque cosa ma chi ascolta ed è influenzato da nella sua nel suo ascoltare da quello che noi stiamo suonando come noi siamo influenzati a nostra volta da quello che stiamo suonando attenzione che è proprio quello che sto cercando di dire percepisce tutto per cui parlare di un singolo passaggio quando arriva dopo due minuti e se io quei due minuti li ho preparati diversamente da come li ho preparati in un'altra volta in un altro concerto che ho suonato quel passaggio sarà necessariamente diverso ecco che generalmente in un brano sappiamo dove c'è un punto clou massimo dove si arriva a una determinata espressione di qualche cosa dove c'è magari una pausa che facciamo sempre dove c'è un passaggio dove rallentiamo per preparare un cambio di tonalità o quello che sia però poi c'è anche una libertà del musicista che magari quella sera si sente ispirato o meno a fare una determinata cosa piuttosto che un'altra ecco che dobbiamo necessariamente essere sempre molto presenti sempre molto padroni di quello che stiamo facendo quindi la tecnica non ci deve mai abbandonare in nessun momento ma dovrà essere completamente invisibili da quello che facciamo che è una cosa difficilissima perché basta che sbagliamo mezza nota che il nostro stato d'animo cambia completamente che la tecnica di quello che stiamo facendo cambia completamente perché se io sto facendo una legatura seguita da un passaggio di un certo tipo e sbaglio e faccio mezza nota fuori posto è probabile che mi vada fuori strada anche tutto il resto cioè qui è come fare no la sterzata leggermente più a destra o a sinistra dovendo fare una cosa ben precisa quel piccolo movimento fatto prima e finito o andiamo lunghi o no facciamo qualcosa che non avremmo dovuto fare e ci sorpassano all'ultima curva del mondiale mi rendo conto che è molto complicato ma bisogna cercare di mettersi nella posizione di studiare anche bene quando si quando si affronta un brano e cioè quando lo si comincia a sentire proprio e questo vale a tutti i livelli anche quando stiamo suonando delle cose non particolarmente difficili non pensate di dover arrivare a suonare chissà come è chiaro che inizialmente è molto complicato perché manca la materia prima no finché non si padroneggia realmente quello che si suona voglia interpretare ma si può provare mentalmente a dire ok ma che cosa mi piacerebbe sentire qua mi piacerebbe sentire una pausa leggermente più lunga mi piacerebbe sentire un pochino di volume in più ovviamente quando si padroneggia bene un brano e quindi potrebbe essere il caso di prendere qualche cosa che era un po più indietro nel percorso di studio perché con il percorso di scuola acustica e con tutta la musica che ho scritto in questi anni ho cercato di scrivere musica sempre a tutti i livelli anche all'inizio quando gli esercizi erano di una o sono di una o due righe perché mi piace l'idea che chi sta suonando stia suonando della musica non degli esercizi perché ci si può mettere in questa posizione già da subito allora provare a affrontare un brano e vedere realmente quando arriviamo nel momento importante che cosa succede come ci siamo arrivati abbiamo sbagliato eravamo pronti tecnicamente eravamo pronti dal punto di vista emotivo e della testa sapevamo da che cosa venivamo sappiamo che cosa deve succedere dopo perché è un attimo a perdere il controllo è veramente un attimo non ci si rende conto e perdere il controllo su qualche cosa del genere significa molto spesso rovinare tutto il lavoro che si è fatto fino a quel punto quindi bisognerebbe cercare di stare molto attenti proprio per mantenere vivo il più possibile quello che quello che stiamo facendo avrei voluto affrontare un pochino più a fondo l'argomento tecnica e interpretazione insieme perché sono due cose inscindibili non si può mai dimenticare la tecnica che invece diciamo che va dimenticata perché sono due cose che devono andare assolutamente di pari passo e si devono supportare una con l'altra continuamente ripeto è molto complesso trovarsi in questa posizione nel senso ci si trova molto di rado e finché non ci si trova con qualcuno davanti che ci sta ascoltando questa cosa è ancora diversa quindi si può fare un video si può suonare a casa già suonare di fronte a qualche amico potrebbe probabilmente darci qualche indicazione in più ma qualche indicazione in più perché quel brano dove lo suonavamo era un concerto abbiamo suonato per un'ora era il primo brano era il quarto era l'ultimo che cosa abbiamo suonato prima che cosa suoniamo dopo ci sono una quantità di variabili che sono enormi imponderabili praticamente quindi perché ho fatto sto video chi può saperemo